Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni pass Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della puntata Lo scrittore Gianluca Serioli Lo scrittore Gianluca Serioli Lo scrittore Gianluca Serioli Benvenuto alla puntata, abbiamo ospite uno scrittore Gianluca Serioli A questo punto, per chi non ti conosce, come descriveresti Gianluca Serioli? Ma soprattutto, se fosse un personaggio di un tuo libro Come lo inseriresti e come lo descrivesti in questo personaggio? Io come persona mi descriverei come un sognatore Tante volte mi definisco un Marco Valdo Perché questo è il primo romanzo che scrivo Però amo molto scrivere racconti che riguardano soprattutto i luoghi della mia terra Io vivo sul lago di Iseo E quindi mi piace molto fare racconti sulle persone Anche sui personaggi Mi definisco un Marco Valdo perché mi piace molto osservare Leggo poco Se devo definirmi uno scrittore Mi definisco proprio uno scrittore atipico Perché leggo poco Però osservo molto Quindi io magari esco Faccio un giro in paese Sono capace anche di farti un racconto Su un cartello Un cartello straduale Mi piace molto fantasticare E mi definisco un sognatore Persona molto sensibile Purtroppo perché al giorno d'oggi E' più un vizio E' più un difetto Che una virtù Una sensibilità E se invece fosse un personaggio di un tuo libro Come lo inseriresti questo personaggio? E in che parte li daresti? Se fossi un personaggio di questo libro Di questo libro che ho fatto? Sì Sicuramente Potrei essere la fotocopia Di Battista Che sarebbe il fratello di mio padre Descritto in questo libro Battista Praticamente E' la classica figura di fratello Come ho detto prima sensibile Che è reduce Da molto fragile Che è reduce Diciamo da una Da una fortissima delusione D'amore Perché è stato praticamente tradito Ho scoperto il tradimento Quasi sull'altare Da lì diciamo che Subisce un grossissimo cambiamento La fragilità si accentua E diventa quindi Un pochettino Una noce In una piccola barchetta In mezzo a un mare in tempesta Che si fa trascinare un po' dagli eventi E vive una vita Diciamo Disillusa Io penso Che anche mio padre Col quale io non ho avuto Un grandissimo rapporto Durante la vita Non vuol dire Che non ci si voleva bene Anzi Ci si vuole bene Però non c'è mai stata Grandissima empatia Niente baci Niente abbracci Pochissimi discorsi Intesa sì Però Io ho sempre avvertito Un fortissimo senso di protezione Che probabilmente Mi ha fatto male E con me stare sotto La classica campana di vetro E quindi ecco Battista Era una persona Così fragilissima Che purtroppo Ha avuto Una fine tragica Che verrà Rivelata nel secondo volume Perché questa è una trilogia Quella di cui stiamo parlando Quella del giovane Giovanni E È una persona Che appunto In virtù di queste Di queste fortissime delusioni Non riesce più neanche A trovare il lavoro Per via di una disistima Non dico che è una depressione Però una disistima E Paura proprio Di vivere nel mondo E quindi diciamo Che si chiude a riccio Nel suo mondo Un mondo Un mondo di sognatori Che però Purtroppo Non porterà a nulla E a questo punto Parliamo appunto Di questo primo romanzo Che il giovane Giovanni Quando nasce Effettivamente L'idea Di iniziare A scrivere questo Poi Ci ha avuto il tempo Per progettare Lavorare Su quest'idea Quando nasce effettivamente La prima idea Poi dopo E come poi si sviluppa Questo progetto Mi hai detto che Sarà una trilogia Sì L'idea nasce Un anno fa Mio padre È ricoverato Presso una struttura Per anziani Dal settembre 2020 Quindi Sono Quasi quattro anni Inizialmente È ricoverato Insieme a mia madre Perché la caratteristica Che si sviluppa Anche nella trilogia Sta proprio Nella fortissima unione Tra mio padre E mia madre Classici inseparabili Entrambi Disabili E di conseguenza Si sono sostenuti Per tutta la vita Quindi Si sono aiutati A vicenda E Mia madre è morta Poi nel gennaio Del 2021 Da quel momento Mio padre È rimasto Diciamo Solo Io sono figlio unico Come dicevo prima Non ho mai avuto Un grandissimo rapporto Lo andavo a trovare Lo vado tuttora a trovare Adesso vado a trovarlo Addirittura Tutti i giorni Perché ovviamente Avendo problemi Problemi di salute Che si sono Accentuati Aggravati Però prima Ecco anche per effetto Diciamo Delle restrizioni Del covid Si poteva andare Una volta a settimana C'era un appuntamento Di mezz'ora Con tutte le precauzioni Del caso Mascherine Prove della temperatura Insomma Un po' tornare indietro A quei tempi Molto difficili E In uno di quelle Di questi incontri Dove Come sempre Stavamo lì Seduti A guardare la vetrata E non ci parlavamo Con gli occhi fissi Di fuori Fuori All'esterno In uno di quegli incontri Lì Mio padre Mi dice Fa io Ho tantissime cose Che devo Tirare fuori Della mia vita Che purtroppo Non posso più raccontare A nessuno Perché la gente Della mia generazione È passata Tutta miglior vita Non c'è più nessuno L'ultima Era appunto Mia madre E mia zia Che era anche lei Presente in struttura Ma è morta subito Anche lei E quindi niente Mi fa Io ho questo bisogno Di Di mettere Per iscritto La vita Che io Ho Vissuto Non è una biografia Non è alla fine Una biografia Ma è proprio Un percorso Di una vita Che effettivamente È fantastica Nel bene Nel male E io gli ho detto Cosa Non so Cosa devo fare E lì mi fa Tu che sei bravo A scrivere Perché Tra l'altro Io ho anche un periodico Ho gli dato Un periodico Locale Che conduco Da 12 anni E lui mi dice Tu che sei bravo A scrivere Mi piacerebbe Che Io Che mi facessi Un libro Perché io sto scrivendo Degli appunti Che ne facessi Un libro Un romanzo Ecco Quello è stato Probabilmente Uno dei pochi Momenti In cui Ho ricevuto Un attestato Di stima Da mio padre Tu sei bravo A scrivere E in quel momento Quindi è stato Un attimino Come aprire un portone Per entrare Nella sua vita E ho abbandonato I progetti Che avevo Perché stavo Scrivendo Altri due romanzi E praticamente L'accordo Qual era Che ogni mercoledì Ogni volta Che c'era un appuntamento Il mercoledì Io arrivavo Ritiravo i fogli Che lui stendeva Li portavo a casa Li romanzavo Li mettevo su computer E poi periodicamente Li facevo vedere I primi risultati Alla fine Un foglio di qui Un foglio di là Gli ha detto Ti porto dei quaderni Perché altrimenti Non riusciamo più a capirci I fogli vanno persi E lui alla fine Dopo in sei mesi Ha steso Dieci quaderni Tutti scritti Rigorosamente In stampatello E io Al momento Sono arrivato Solamente al terzo quaderno Che ha originato Il primo romanzo Perché l'idea Era quella Di fare un libro unico Poi Vuoi perché Mio padre Ha avuto un ictus E quindi Ovviamente Le aspettative di vita A quest'età Non è che sono tante Allora ho detto Facciamo così Visto che Se dovessi fare Un libro unico Con tutti questi appunti Mi salta fuori Un libro di 800 900 pagine Non lo legge nessuno Facciamo una trilogia Di modo che Il primo libro Almeno Te lo faccio vedere Che era il suo desiderio Quello di vedere uscire il libro Infatti il primo libro Inizialmente Era stato fatto da me In modo artigianale Visto che ho un po' di pratica Anche con le impaginazioni E con le stampe Così Avevo stampato Una cinquantina Di libri Per i conoscenti Che lui ci teneva A far vedere E Cos'è successo? Che nell'ambito Di un'iniziativa Che c'è Molto interessante Che c'è All'interno del ricovero C'è un gruppo di lettura Praticamente Il martedì Della lettura Dove queste Addette all'animazione Leggono Libri classici Agli anziani Agli ospiti E li cambiano anche Ogni settimana Cambiano libro Praticamente Le infermiere Dell'animazione Si sono accorte Che lui stava scrivendo Questa cosa qui E ha detto Cosa stai facendo Mi ha spiegato Io sto scrivendo un libro Però non vi faccio leggere Niente Fin quando non sarà finito A fine loro Lo hanno letto E mi hanno chiamato Mi hanno detto Fai una cosa bellissima Perché in effetti Il mio compito Era quello Di prendergli appunti E romanzarlo Cercare un attimino Di creare anche il contesto Di prendere informazioni Su quello che lui Non aveva scritto Perché lui Quello che ha scritto Lui Di bello È che ha scritto Ancora i dialoghi Che lui faceva 85 anni fa Lui si ricordava Perfettamente Si ricorda ancora oggi I dialoghi Gli aneddoti Ma soprattutto I dialoghi diretti Che io ho voluto Mantenere proprio originali Nella loro semplicità Anche nel suo Nel loro aspetto rustico E io Mi sono limitato A romanzarlo A creare un attimino Appunto questo quadro Dove all'interno Si è sviluppata La trilogia Loro L'hanno fatto leggere Alle persone Agli ospiti E Hanno cominciato a dire Che loro volevano Continuare a leggere Questo libro qui E allora L'ho proposto Un editore E l'editore Immediatamente Mi ha detto Che lui Avrebbe voluto pubblicarlo E quindi niente Siamo qui A promuoverlo Abbiamo fatto La presentazione Proprio nel ricovero Settimana scorsa Molto bella Alla presenza Di mio padre Che fortunatamente Si era già Un po' ristabilito Dagli ultimi problemi E E anche in quella circostanza Lui mi ha detto Fa Sono contento Sei stato bravo Quindi Secondo al prestato di stima Nel giro di pochi mesi E quindi Siamo contenti tutti Devo dire che Il romanzo Effettivamente È molto Scorrevole È molto È pieno Di contenuti E non è Soprattutto Non è cupo Perché Si potrebbe pensare A un romanzo Cupo Visto che Mio padre Rimane disabile Dall'età di 4 anni Passa 4 anni Di degenza All'ospedale di Venezia Durante la guerra La seconda guerra mondiale Però invece È un romanzo Di resilienza Di 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 rivalso Diciamo Ecco Pieno di Di ironia Anche E di tanti aneddoti 50 personaggi Ognuno Ognuno è diverso Dall'altro Ognuno con le sue Caratteristiche Non è un romanzo Cupo Ecco Mentre stavi parlando Scorrivano Perché Quando vi parlavi Della presentazione Scorriva L'immagine Con il tuo padre Mentre Postate il libro Qual è stata Avendolo per mano La tua sensazione Che lui Avendo questo libro in mano Qual è stata La tua sensazione Che hai provato Vedendo lui Il libro in mano E Vedendo i suoi occhi Il suo viso Che Probabilmente Ha cambiato Aspetto Sensazione E tu Che cosa hai provato In quel momento Io sono sicuro Che lui ha provato Un forte senso Di orgoglio Si vedeva Che era orgoglioso Anche quando Gli facevano le fotografie C'erano anche I giornali locali Le tv locali Lui era orgoglioso E io E io Non saprei Descrivere Come mi sento Io mi sento Come se Avessi Instaurato Un 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 rapporto Cioè Io ho vissuto Con mio padre Io ho 56 anni Quindi 56 anni Praticamente Abbiamo sempre abitato Io al piano superiore Di una villa E lui sotto Paradoxalmente Il fatto di vedersi sempre Ha fatto sì Che non ci vedevamo mai Cioè Sapevamo che eravamo qui E quindi Non era come un rapporto Di Quando magari Si va a trovare Il papà O la mamma La famiglia Diciamo Una volta domenica E quindi Ci si ferma a mangiare Essendo qui vicini Praticamente Non ci si vedeva Quasi mai Perché sapevamo Che eravamo qui Dopo 56 anni Paradossalmente Adesso che lui È a ricovero Sto Sto Parlando di più Con lui Adesso che prima Rispetto a prima E ci stiamo conoscendo Per merito del libro Perché io Leggendo Ho capito Tanti comportamenti Ma ma non lo scrivevo Ho capito Il perché Di tanti comportamenti Di mio padre E quindi Io Se dovessi Dire Un sentimento Che ho provato A pagamento Forse Il fatto di sentirmi Realizzato anch'io In un certo senso Di aver fatto Una cosa bella Ecco Perché in tanti Mi hanno detto Ma tu ti rendi conto Che hai fatto Una cosa bellissima Io Mamma non lo scrivevo Mi ho rendito conto Però ecco Vedere mio padre Contento E poi Sentirmelo anche dire Quindi per me È stato Un momento Una grande soddisfazione Ecco Invece Qual è Io non spoiler Cioè il libro Però c'è Quel momento In cui Mentre stavi scrivendo Il primo La prima parte Ti sei reso conto Che Quella appunto Quella particolare Quella appunto Particolare Ti ha sorpreso Anche a te Nel momento In cui lo stavi Trasformando In un libro C'è qualche parte Che ti ha sorpreso In positivo Comunque Ti ha Ti ha reso Cioè Quella sensazione Emozionale Un po' di più Rispetto a tante Altre parti Ma probabilmente È legato A Appunto Come dicevo Prima Quando Ho capito Alcuni aspetti Di mio padre Nel senso Lui appunto Ha avuto Questo incidente Che un banalissimo incidente Un'accaduta Da un carretto Mentre giocava Con i suoi amici A quattro anni Che gli ha causato La disabilità Definitiva Poi è subentrata Anche la poliomirite E quindi La cosa è stata Irreversibile Questo incidente È successo A quattro anni Ecco Questo numero Qui È un numero Che si ripete Cioè Quattro anni È l'età Dove è successo L'incidente È rimasto Poi quattro anni In degenza All'ospedale Di Venezia Distante 200 km Da casa Con La famiglia Una famiglia Umilissima Di contadini Che non potevano Non potevano Neanche andare A trovarlo Tra l'altro Padre Contadino Mezzadro Morto Tragicamente Quasi subito Nel 1939 Quindi anche qui Mio padre Aveva quattro anni Quando è morto Non l'ha praticamente Conosciuto È morto a causa Di un'incornata Di una mucca Che gli ha perforato Un polmone E quindi Da quell'età lì Mio padre Si è sempre sentito Dire Poverino 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 Chissà che vita Avrà Mentre invece Lui ha sempre cercato Di vedere la confiducia Però C'era sempre Questo discorso qui Io Io Invece Quando Come dicevo prima Mia madre Anche lei era disabile Era invalida Perché è stata operata Tre volte di tumore La prima volta È stata operata Quando io avevo Quattro anni Quindi si ripete Questa cosa qui E anche allora Si diceva Io Mi ricordo Vagamente Che dicevo Povero bambino Rimarrà orfano Allora Un'operazione di tumore Adesso la tecnologia La scienza La tecnologia Per fortuna Riesce anche A allungare Le aspettative di vita E anche risolverle Queste malattie Allora invece Era un'operazione Da veramente Io L'ho vista Mia madre Prima di morire Non l'avevo mai vista Nuda Un corpo Un corpo martoriato Proprio da Da queste operazioni E quindi anche a me Dicevano sempre Poverino quel bambino Che rimarrà Orfano E Probabilmente Lì ho capito Il perché Mio padre Aveva avuto Questo fortissimo Senso di protezione Ai miei confronti Perché Vedeva ripetere La storia Cioè Lui a quattro anni Si sentiva dire Poverino poverino Io a quattro anni E di nuovo Si ripeteva la storia Quindi Ho cominciato a capire In quei momenti lì I suoi comportamenti E poi Poi Mi sono commosso molto Quando Si è presentato Il problema Di Per lui Per mio padre Di trovare una compagna Perché Lui nella giovinezza L'invalidità Che ha avuto Praticamente Era uno storpio Aveva una gamba Più corta dell'altra Di 25-30 centimetri E solamente Quando la cosa È diventata Davvero Impossibile Da sostenere Ha trovato Una persona Di sé Un angelo Costodo Un capo Ufficina Che aveva inventato Questa sorta Di protesi Artigianale Che gli aveva Un attimino Permesso di bilanciare La cosa Però Lui non ha mai Vissuto Questa Cioè Non è mai Stato umiliato Non ci sono mai stati Episodi di bullismo Neanche Marginato Con gli amici E con i parenti Con la gente Nel suo territorio Però Quando è arrivato Il momento Di Che anche lui Aveva la necessità Di trovare una compagna Era il momento Anche dove Tra l'altro Aveva iniziato A fermarsi Anche lavorativamente Altro problema Trovare un lavoro Per una persona Handicappata In quello stato Lì Non era stato facile E lui Era riuscito A imparare Questo lavoro Di odonto tecnico Che poi Ha cambiato Completamente La vita Portandola Da uno stato Di miseria Allo stato Di agiatezza Però Ecco Lui aveva Questa esigenza Qui ovviamente Come tutti Di trovare Una metà Che potesse Con quale Anche Diciamo Alla quale Confidare I pensieri Le preoccupazioni Le gioie I dolori E questa metà Non riusciva A trovarla Lì riceveva davvero Dei due dipiche Proprio Umilianti Perché Insomma Non volevano stare Con Una persona Di capata Erano gli anni Erano già Gli anni 50 60 C'era Album economico Le ragazze Volevano andare A ballare Se lo sentiva Dire Io voglio andare A ballare Io non posso Mica stare qui A perdere La mia giovenienza Con una persona Handicappata E quindi Quello è stato Il grosso problema Dove ha sofferto Secondo me Molto Poi ha trovato Appunto mia madre Come dicevo prima Ci sono sostenuti A vicenda E è subentrata Però La mia nonna Cioè la madre Di mia madre Che ovviamente Anche lei Non voleva che sposasse Una persona Handicappata Quindi Possiamo dire Che Se vogliamo fare Delle analogie Con dei romanzi E anche Con dei film Il primo volume Si ispira Molto All'atmosfera Dell'albero Degli Zoccoli Di Armando Olmi Però dopo Ecco Quando Il secondo volume Dove ci sarà L'incontro Con mia madre Il fatto Che la mia nonna Non voleva Che Che si sposassero Così Ricorda molti Promessi sposi Cioè Questo matrimonio Non sa da fare Lei ha fatto Di tutto Per non farlo fare Alla fine Ci sono sposati E devo dire Che la sensibilità Di mio padre E anche La generosità Di mio padre Ha fatto sì Che poi Quando mia nonna È rimasta sola E aveva bisogno Appunto Del sostegno Di Di Mia mamma E mio padre Che nel frattempo Aveva trovato Questa giattezza Ha costruito Questa casa E un appartamento L'ha riservato Proprio Alla suocera Quindi Senza rancore L'ha portata Qui in casa Di modo che Stasse vicino La madre Alla moglie E quindi Alla fine Dopotutto Tutto si è sistemato Però ecco Penso che Il discorso Dell'amore Sia stato quello Che l'ha fatto soffrire Più di tutto Invece La copertina Da come nasce Questa copertina In fondo Provende In foto C'è il giovane Giovanni Rappresentato Sicuramente Con questo mondo Cioè Provende Con questa pianura Che in realtà Non guarda Ma guarda Un orizzonte Che dovrebbe essere Per la futuro Per la crescita Poi successiva La copertina Ho dato Carta bianca All'editore Il quale Ha fatto Varie bozze In base Al contenuto Del racconto Quindi ho detto Tu Leggi 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 il volume E poi Mandami Delle Proposte Questa È stata Quella Che Subito Secondo me Quella Che Rispecchia Fedelmente L'infanzia E l'adolescenza Di mio padre Questa strada Qui Praticamente Si può dire Che era la strada Che lui faceva Da piccolo Alle scuole elementari Doveva fare Tre chilometri E andare A tornare Con questa gamba Corta Diciamo Per andare a scuola La quinta elementare Non c'era Nel paesino Dove lui Stava Monte Rotondo Un piccolo paese Della Francia corta Ma era Passirano A tre chilometri E quindi lui Tutte le mattine Partiva Tra i boschi Come del resto Andava spesso Nei boschi Con i fratelli A raccogliere Le castagne A raccogliere i frutti A raccogliere Le fascine di legna Perché allora Gli inverni Erano freddissimi E non c'era Non c'era Riscaldamento Come dicevo prima Era proprio un clima D'albero degli zoccoli Ci si trovava tutti Nella stalla Si raccontava Ci si univa I momenti I momenti Tragici Di dolore Di una persona Diventavano I momenti Tragici Di tutta Una comunità Così come Un momento di gioia Come poteva essere Il ritorno Del giovane Giovanni Dopo quattro anni Dall'ospedale di Venezia Il ritorno a casa Diventava un momento Di gioia Per tutta la comunità Un momento di festa E quindi Ci si trovava sempre In quella stalla Del signor Zamboni Dove ci si raccontava Si raccontavano Anche i pettegolezzi Si fantasticava Si leggevano storie Si raccontavano storie E questa strada Qui rispecchia Fedelmente Il percorso Che lui faceva E che è anche Un modo di guardare L'orizzonte La copertina Mi è piaciuta tantissimo Inizialmente Era una strada Asfaltata Ho detto All'editore Guarda Una strada Asfaltata Così bella Non ce n'è ancora Neanche oggi Quindi Impossibile Prevedere Che negli anni 40 50 Quanto ci fosse Una strada così E l'ha cambiata E è venuta Bellissima Secondo me È molto bella La copertina Molto Romantica Si respira Si respira Commozione Guardandola Poi è L'espressione Federe Del contenuto Ecco E anche Con questi colori Tenui Dove il verde Risalta poco E più Un fatto Di un colore Un po' più Ammorbidito Sì È quasi Monocromatico E quasi Il prato Si evidenzia poco E il verdino Sembra molto più Monocromatico Che colorato Sì Mi dice Qual è stato Adesso che molti L'hanno letto Qual è stata La La sensazione Che hai visto E ciò I commenti Che ti hanno fatto Ovunque Che cose Ti hanno detto Una volta letto È capito Oppure dai loro Sguardi Se quelle persone Che l'hanno letto Vicino Più che Pure le parole Con le loro Sensazioni Nello sguardo Che cosa È pensato Quando ho fatto La prima presentazione Dall'editore A Brescia Ho invitato Ho invitato Ovviamente Tutti i conoscenti Devo dire Che alla fine Della presentazione Quasi tutti Mi hanno detto Mi hai commosso Cioè qualcuno Mi stavo mettendo A piangere Perché mi hai commosso Il racconto È commovente Dopodiché I libri Sono stati letti Molto Proprio Dalle persone Di questo Paese Di Montelotondo Perché Non ci sono più Però ci sono i parenti E Quello che dico Anche Nell'introduzione Del libro È che Infatti Ognuno di noi Dovrebbe Pensare Di scrivere Il libro Della propria vita Da tramandare Poi di generazione In generazione Perché Diciamo che Lascia impresso Quelle che erano Le tradizioni I luoghi I modi di pensare I modi di sentire Che con gli anni Si trasformano Inevitabilmente La solidarietà di allora Non è di certo La solidarietà Che c'è oggi Però ecco Quello che mi è piaciuto È che Soprattutto le persone anziane Mi hanno fatto Anche tramite parenti Mi hanno fatto sapere Che il libro È bellissimo Che è proprio vero Quando raccontava questo È proprio vero Quando c'era questo Si sono riconosciute Molto Nei racconti Delle persone Che io ho cercato Proprio anche Di sviluppare Alcuni mi hanno mandato Anche le fotografie Quando Mi ha mandato Guarda mio papà Che sta leggendo il libro Mi ha mandato le fotografie Tutto intento In due giorni L'ha letto tutto È scorrevole E quindi Quello che mi fa più piacere È il fatto che commuova Perché in effetti Esprime del sentimento Cioè Emergono dei sentimenti Molto importanti Secondo me Emergono forte Come la solidarietà Il senso di appartenenza L'unità Il senso della famiglia Di allora E poi la resilienza Il senso di rivalsa E sono contento Che li hanno percepiti Chi l'ha letto L'ha percepito Ecco Un secondo Eccomi allora Intanto noi ti ringraziamo Per essere stato ospite E a questo punto Ci mancano due cose fondamentali Poi ci diamo fondamento Per il secondo libro Quindi già Lo preannuncio Diciamo che ci sentiremo Per il secondo libro A questo punto Ci mancano due cose fondamentali Dove poter comprare il libro Dove poterlo trovare E eventualmente Poterti conoscere Quindi Se hai pagine di Facebook Instagram E i saluti finali Allora il libro Lo si trova Lo si trova In tutte le librerie Se non c'è materialmente Lo si può Ordinare Col codice ISBN Poi lo si trova Sul sito dell'editore Quindi www.tarantola.it Io poi Ho un sito personale Perché Tra le varie cose Organizzo anche eventi Concerti Quindi Ho la biglietteria Sul mio sito E diciamo che Ho utilizzato la biglietteria Anche per vendere il libro Quindi il mio sito è www.eventimacrame.it E poi Lo si trova In tutti Su tutti i canali digitali Web di libri Quindi Amazon Amazon.com O .it Comunque Amazon Feltrinelli IBS Mondadori Store Tutti i canali web Di libri Se Posso anche consegnarlo Direttamente io per posta Compiego di libro Mandando la richiesta A info Chiocciola Eventimacrame.it E poi Ho una pagina Facebook Che è Gianluca Serioli Scrittore Oppure c'è anche Gianluca Serioli E poi Ho anche un sito Un altro sito Che si occupa Appunto Del mio paese Dove ci sono Tutti i racconti miei E anche gli eventi Quei organizzati Che è www.bviseo.it L'altra cosa Erano i ringraziamenti Non mi ricordo più I saluti finali I saluti finali I saluti finali Sono io che ringrazio voi Per l'invito E L'appuntamento Sicuramente Per il secondo volume Che sarà Tratterà della maturità Perché appunto I volumi sono tre Il primo È questo qui Infanzia e adolescenza Il secondo La maturità E il terzo Gli anni d'argento La stanza E la vetrata Perché sono appunto I luoghi dove Ha concluso Diciamo Mio padre Il libro E presumo Che concluderà Anche la sua vita Lì E Quindi Io vi ringrazio Ci diamo appuntamento Io penso Ci vorranno Sette mesi Per Per terminare Il secondo volume Che sarà Quello più complicato Perché parlerà Proprio anche di me Quindi Entro in scena io E lo temo molto Ove di campione Piero di energie Il sport di Ceno Game Ci porta In una nuova dimensione Con passione E coraggio Siamo pronti a brillare E studio Sette E tv Ci guida Ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio Con onore Siamo pronti a dare Il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non si rende mai Sport di Ceno Game Studio Sette E tv L'intervista di Pietro D'un cuore D'un campione Ogni atleta Ha una storia Ogni momento E un'emozione Con coraggio E con determinazione Studio Sette TV E sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata Lo stregore Gianluca Serioni Lo scrittore Gianluca Serioni E' un scrittore Gianluca Serioni